Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Una stela rettangolare di 2 metri per uno, archetipo maschile di oltre 5.000 anni fa, riuscirà a rivitalizzare il turismo nella frazione di Migiondo, comune di Sondalo. Ne sono convinti Chelio Sbonetti, medico ortopedico dell'ospedale Morelli, artefice del casuale ritrovamento nel 2016, e con lui gli abitanti del paese, decisi a non lasciarsela portare via. 5.000 anni fa qualcuno, probabilmente un cacciatore, incise questa roccia metamortica chiamata Gneis, ricca di quarzo, felspati, polvere di silicati e ferro magnesio. Ora è al vaglio di un geologo che trarrà le conclusioni e suggerirà di cercare l'archetipo femminile, probabilmente in zona. A marzo 2016 stavamo iniziando a fare questa strada di accesso per la casa che ho ristrutturato qua sopra e io ero lì in modalità anziano che controlla i lavori e il mio ruspista girò questo masso che era inserito nel muretto qua e c'era questa faccia esposta mi sembra e girandolo, era molto asciutto quell'anno lì, uscì proprio pulita pulita e gli dissi, guarda c'è una roba antica, metti l'inserita nel muro e allora l'abbiamo messa qua in maniera che tutti passandolo la possano vedere, ammirare. Raffigurati un cerchio perfetto simbolo solare, teste d'ascia con i loro manici, un petroglifo con tre coppelle, forse il fodero di un pugnale o una cornucopia, secondo Marco Paganoni di Patrimonio Montano, poi una serie di linee come di un cinturone rituale. La sovintendenza sembra che ha detto che potrebbe anche portarlo via al museo di Teglio e speriamo che questo non accada, speriamo che ce lo lasci qua in maniera che turisticamente ci aiuti, anche perché chi vuole vederlo, chi vuole studiarlo lo ha a disposizione senza che sia rinchiuso in un museo e può fare da volare un po' anche tutta l'economia e alla cultura locale. Non è qui per caso questa stela, abbiamo altri reperti in zona, qui in una frazione qua vicino abbiamo gli oranti, poi abbiamo un cheiron, una mano incisa nella pietra e un sentiero con delle coppelle, probabilmente pastorale, sono tutti sopra il livello dell'antico lago che c'era Sondolo che poi si trenò in epoca medievale. Cosa riserverà il futuro? Stefania Bossi, direttore del museo di Teglio, dove potrebbe essere portata la stele, spezza una lancia in favore degli abitanti. La nostra logica, dice, va in tutt'altra direzione, quella della tutela attiva, mappando i ritrovamenti e tenendoli sul territorio o per creare un percorso di visita. Decontestualizziamo solo in caso di rischio di perimento e danneggiamento dei manufatti. Ad oggi non è pervenuta alcuna richiesta ufficiale di deposito della stele, non c'è alcuna azione a riguardo. Stiamo facendo tutte le valutazioni del caso, dice al telefono dalla soprintendenza Giuseppina Ruggero, che la stele l'ha vista con i suoi occhi, analizzare il contesto, verificare e poi decidere per la sicurezza del bene.